Io tante cose da mia mamma non glielo ho dette sulla malattia proprio per proteggerla. E delle volte mi trovavo a parlare con i medici e cercavo di proteggere anche mio padre e i miei fratelli, non raccontando tutto. Mia mamma forse silenziosamente sapeva tutto, perché la malattia era molto avanti, però era lì forte e questa forza io la sento tuttora, perché comunque la sento vicino a me, sempre. Lei è vicino a te sicuramente, io ti posso capire tantissimo e quindi non so cosa aggiungere Anna, se non un abbraccio fortissimo. Ci vediamo di solito. È il momento più brutto. Sono quelle cose che ti fanno crescere tanto che non ti aspetti, perché sono magari cose che leggi, magari senti che sono un po' distanti da te. Poi quando ti capitano queste cose nella tua vita, soprattutto vedere una mamma, che è sempre, il genitore è sempre quello che ha la risposta a tutto. Non ti preoccupare, il non ti preoccupare è sempre pronto, no? In quel caso ero io a darle la mano, a vederla fragile e a tirar fuori una forza che non pensavo nemmeno io di avere. Grazie. 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 Grazie.